Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, questa volta Renzi ha veramente superato se stesso, ha dato il meglio o il peggio di sé. Nel caso di Renzi il meglio e il peggio di sé spesso coincidono. Ha bestemmiato di fatto in piazza San Pietro Renzi perché in un'intervista realizzata al Principe Saudita, un'intervista ben remunerata dal Principe Saudita, pagato dall'Arabia Saudita e ha dato ad intervistare il Principe dell'Arabia Saudita facendolo zerbino. In un'intervista al Principe Saudita ha definito l'Arabia Saudita come la terra del rinascimento, un nuovo rinascimento sta partendo dall'Arabia Saudita. Ma quando ritornerà in Italia Renzi, anzi già ritornate già qua, ma i giornalisti riescono ad inchiodarlo al muro giornalisticamente con domande? Riusciranno i giornalisti a chiedere conto di queste bestemme, di queste volgarità, di queste indecenze morali, etiche, politiche? Perché lo fanno quello e lo devono ignorare. Non c'è una via di mezzo in questo caso. Per quanto sostenuto è improponibile. L'Arabia Saudita, il paese che da quasi dieci anni conduce una guerra sporchissima nello Yemen, avendo di fatto causato la morte di centinaia di migliaia di persone. L'Arabia Saudita, il paese che compra più armi nell'Occidente, forse per quello allora siamo zarbini. L'Arabia Saudita, i cui petrol e dollari sono macchiati di sangue. L'Arabia Saudita, il paese in cui le donne hanno diritti minimi, minimi, in cui per sposarsi hanno ancora bisogno del nulla osta, del maschio. L'Arabia Saudita, in cui la libertà di espressione di stampa è ridotta al lumicino. Potendo andare avanti. L'Arabia Saudita, in cui non ci sono i diritti sindacati, non c'è il diritto di sciopero e non ci sono i sindacati. Forse è questo il sogno di Renzi e non lo ha neanche nascosto. Quando ha fatto un riferimento al costo del lavoro, ha sorriso dicendo che invidia l'Arabia Saudita, non può più mettere piede in Parlamento un uomo così. Non dovrebbe. Non dovrebbe. Perché abbiamo una Costituzione che stabilisce che i diritti del lavoro sono sacri. L'Arabia Saudita è una terra in cui vengono violati i diritti e i lavoratori. E non lo ha detto un leader dell'estrema destra liberista, dunque smantellamento del welfare state, libero mercato totale, diritti al lavoro smantellati, salari bassi. Lo ha detto il leader di un partito che si dice riformista, di un leader che sino l'altro giorno era dentro il PD, che ha guidato il PD, che adesso presiede un gruppo parlamentare, un partito che sia dell'1, 2 o 3% Italia viva, che si richiama la democrazia e i diritti umani. Ma di cosa stiamo parlando? Che ha avuto un ministro dell'agricoltura, che ha avuto un ministro che si occupava di lavoro. Allora vogliamo portare il bracciantato italiano alle condizioni dell'Arabia Saudita? Ma forse lo è già. Perché in Italia c'è già una carenza di salari, una carenza di diritti del lavoro, c'è già una precarizzazione del diritto del lavoro, precarizzazione che ha fatto avanti proprio Renzi. Ma qui è andato oltre. Paese con la pena di morte, è il paese del rinascimento. Paese in cui c'è ancora situazioni di lapidazioni di donne, paese del rinascimento. Non è possibile. Cerchiamo di capirci. Non può valere sempre tutto. Non può valere sempre tutto. Non possiamo dire sempre tutto. Questo è inaccettabile. Ripeto, è inaccettabile. Rinascimento Saudita. Questo è un incubo. E uno degli ultimi paesi, ripeto, per diritti umani. Secondo Human Rights Watch, secondo Amnesty International, secondo anche le commissioni dell'ONU. Ripeto, uno dei paesi su cui servirebbe una lente di ingrandimento, proprio per i diritti umani, per i diritti dei lavoratori, per i diritti delle donne, viene il difetto del paese del rinascimento. Ma allora cosa sarà il paese del rinascimento futuro per Matteo Renzi? La Corea del Nord, il paese del rinascimento? La Russia di Putin? La Turchia di Erdogan? No, no, no. Non funziona così Renzi. Non si possono dire certe cose. Perché serve un'està intellettuale. Probabilmente quello dell'està intellettuale non ti appartiene perché si è stato pagato a peso d'oro dall'Arabia Saudita. Anni in questo caso. Discutiamo di questo aspetto. Un senatore della Repubblica che può tranquillamente svolgere anche altre attività, ma è pagato dall'Arabia Saudita per intervistare il principe dell'Arabia Saudita, ma questo senatore appartiene ad un senato e ad una commissione esteri. Siamo sicuri che allora sia indipendente? Il signor Renzi, o poiché pagato dall'Arabia Saudita, ha degli interessi più con i sauditi che con gli italiani? Sarebbe da indagare. Probabilmente no. Probabilmente è tutta fuffa, probabilmente è tutto narcisismo, probabilmente è tutta voglia di guadagnare, di incassare. Sempre con una faccia che sembra che prenda per il sedere gli altri. Non c'è nulla, nulla da ridere, signor Renzi, perché quelle donne vivono in una condizione di diritti umani pessima e quei lavoratori, quanto i sorrisi sul costo del lavoro, faticano ad arrivare a fine mese. Tu vorresti i diritti dei lavoratori della Sabia Saudita per l'Italia? Ci hai già provato quando governavi. Probabilmente ci vorresti riprovare. Spero che anche in questo caso si accende una scintilla negli italiani, perché non si può, ripeto, far passare ogni cosa. Questa è un'offesa al Parlamento italiano, questa è un'offesa alla Costituzione. Leader che offende la Costituzione ce ne sono abizzeffe, abizzeffe. Purtroppo la mia mente corre sempre là. Forse ho un'età dell'oro che non c'è stata, ma per me è impossibile quello che è accaduto. Ma ve li immaginate? Moro parlare bene dell'Arabia Saudita, Berlinguer, ve li immaginate? Ve li immaginate? Pertini, ve li immaginate? De Gasperi, Togliatti, con tutti gli scheleti nell'armadio di queste persone. Ma ve li immaginate esaltare condizioni di lavoro pessime rispetto a quello che era la loro visione di mondo, di diritti, di progresso civile e politico? Non è possibile. Io spero che ci sia a un certo punto una linea di dignità che noi pretenderemo come minimo, appunto, come un denominatore per fare politica, per non essere più presi in giro da questi nani della politica che però, ricordo, hanno anche ottenuto nel passato il 40% dei voti. Dunque, ogni volta che guardiamo Renzi, che guardiamo le volgarità di un Salvini o di questi parlamentari che scambiano per pochi interessi i loro voti, pensiamo a noi, a noi che li abbiamo votati e a noi che li abbiamo appoggiati.